Tutto pronto per la terza edizione della Caccia al Tesoro Live Memorial Fabrizio Piro. Appuntamento oggi pomeriggio nel quartiere della Marina, dove quest'anno si svolgerà l'iniziativa. Quest'anno cambiamo posto, perché un obiettivo della Caccia al Tesoro fotografica è quello di far conoscere attraverso il gioco i vari angoli della propria città di Sciacca. Il primo anno l'abbiamo svolto nel centro storico, il secondo anno nel quartiere di San Michele e quindi quest'anno ci è sembrato giusto e doveroso farla svolgere nel quartiere della Marina, che è un quartiere tra i più importanti della nostra città e centro economico anche di Sciacca. Quindi questa è la prima novità. È un quartiere che tanti conoscono, ma magari ci sono degli angoli e delle storie che non sono conosciute anche ai sacensi stessi. E poi altra novità è il carattere Instagram che abbiamo dato a questa edizione, perché uno degli obiettivi della Caccia al Tesoro sarà da postare direttamente su Instagram e non dovrà essere consegnato alla postazione di verifica. Questo è grazie alla collaborazione di Iger Sagrigento, che ha dato un grande contributo quest'anno sia nella promozione nazionale sia nell'organizzazione dell'iniziativa. Quante sono le squadre partecipanti e come sarà strutturata poi alla fine la manifestazione? Sono 25 squadre per un totale di circa 100 partecipanti, perché sono 4 partecipanti a squadra. Abbiamo anche altre squadre messe in riserva, quindi sono in lista d'attesa, perché ogni anno siamo sorpresi piacevolmente dal fatto che comunque c'è tanta richiesta. Nel giro di pochi giorni riusciamo sempre a chiudere le iscrizioni e quindi saranno 100 partecipanti che animeranno il quartiere della Marina, perché una delle caratteristiche anche di questa iniziativa è che i vari quartieri durante l'iniziativa prendono vita. Anche gli esercenti e gli abitanti del posto rimangono stupiti dal vedere tutti questi partecipanti che vanno a fotografare ogni angolo del quartiere. La caccia al tesoro rientra nel più articolato progetto LIFE, ricordo del fotoreporter se accenze prematuramente scomparso, portato avanti dall'associazione L'altra Sciacca e dai familiari ed amici di Fabrizio Piro. Il prossimo appuntamento è quello con la mostra fotografica all'atrio del comune. La caccia al tesoro è soltanto una delle iniziative del progetto più ampio LIFE Memorial Fabrizio Piro. Ci sarà poi, come di consueto, anche la mostra all'atrio del comune che chiuderà poi le manifestazioni per quest'anno. Sì, il progetto LIFE ogni anno è caratterizzato da tre iniziative. La caccia al tesoro che apre solitamente l'anno del progetto, poi la mostra LIFE che quest'anno si svolgerà dal 10 al 12 agosto presso l'atrio superiore del comune. In occasione della mostra lanceremo anche il challenge su Instagram, il concorso su Instagram, che seguirà il tema di quest'anno che ancora non abbiamo svelato e che sveleremo questo pomeriggio perché sarà un indizio della caccia al tesoro. L'appuntamento quindi oggi pomeriggio a che ora? Alle 17 in piazza Dogana ci sarà l'appuntamento con le squadre che dovranno effettuare il check-in per la gara. E poi alle 18 ci sarà la gara vera e propria. Invitiamo la cittadinanza a venire a trovarci perché sarà sempre bello comunque assistere alla gara.